Potrebbe essere di matrice dolosa l'incendio divampato ieri mattina nella riserva del Borsacchio partito dalla strada di Colle Magnone tra Roseto e Colonia Spiaggia e che ha rischiato di propagarsi a causa del vento fin sopra la zona collinare. Sul posto sono prontamente intervenute due squadre dei distaccamenti dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi e Nereto, con due autobotti e due mezzi fuoristrada con modulo antincendio e con l'ausilio di un autobot inviata dal comando di Teramo. Per fortuna l'incendio è stato contenuto e le fiamme sono state spente in poche ore grazie anche ai contadini della zona che hanno acceso gli irrigatori verso il fossato. Sul posto anche un direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco di Teramo che ha richiesto l'intervento del mezzo aereo e dopo pochi minuti è arrivato l'elicottero Orso Bruno della regione Abruzzo che ha effettuato 31 lanci fino a estinguere completamente l'incendio. Le fiamme hanno bruciato un'area di circa tre ettari di superficie. Sul posto sono intervenuti volontari delle associazioni guide della riserva del Borsacchio e Gran Sasso d'Italia di Mociano Sant'Angelo che hanno collaborato alle operazioni di spegnimento e bonifica oltre alla polizia, ai carabinieri e alla polizia locale. Tra le ipotesi su cui si indaga quella di un'azione dolosa pare infatti che alcuni contadini abbiano sentito sparare dei petardi nella zona.